Mi chiamo Marzia Oldazzi e ho avuto dei problemi sin da piccola coi denti e mi sono ritrovata qualche anno fa a avere solo tre o quattro denti in bocca, un po' per lo sbaglio dei dentisti in Italia e un po' anche per colpa mia perché avendo paura andavo proprio quando non c'era più niente da fare e al che dopo ho cominciato a guardare i vostri video con mia cognata e abbiamo deciso di venire qui per fare tutto il lavoro mi sono trovata molto bene molto molto bene riesco a mangiare a sorridere tutto una clinica molto all'avanguardia pulitissima bellissima proprio ti mettono tuo agio ti chiedono se hai male se bravi bravi e cambia tantissimo perché innanzitutto prima vabbè coi provvisori no però con la mia protesi quando ridevo mettevo la mano davanti perché avevo vergogna si vedeva che era una protesi capito e adesso è tutta un'altra vita adesso sorrido a tutti a tutti quando saluto ciao tutti sono rimasti molto meravigliati dal lavoro ma che belli mi dicono ma come sono belli ma come sono bene quando avevo i provvisori e io gli dicevo guardate che questi sono solo provvisori poi vedrete che migliorerà ancora gli direi andate lì perché sono il top il top in tutti i lavori che fate il top il massimo è importantissimo perché ho fatto troppi anni a non sorridere a mettere la mano davanti adesso non ho più quel problema venite in moldavia dal dottor palmas grazie a tutti